Okina qua a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Tens signori e quest'oggi siamo qui con un video particolare come sempre signori nell'ultimo episodio se non l'avete visto lo trovate sul canale abbiamo fatto un po' di miglioramenti pre-CVL e quest'oggi signori siamo qui per fare il nostro primo attacco delle CVL ovviamente mi avete scritto nei commenti che volevate vedere come attaccavo, come affrontavamo le CVL, un piccolo recap o comunque anche dei video specifici e quest'oggi siamo qui con la prima giornata raga quindi ovviamente senza parlare troppo direi che possiamo fare un bel rinforzino di truppette ma prima di iniziare per il video qui sotto in descrizione c'è il link della mia posto wishlist se potete passarci a darci un'occhiata e magari farmi un regalino io ne sono molto molto onorato inoltre c'è il bellissimo sito di coffee dove potete fare ad azione singola o a cadenza mensile scegliete voi il prezzo, scegliete voi tutto, direi che è molto molto onesto il rinforzino è stato fatto, controlliamo se abbiamo gli artefatti per gli eroi si ne abbiamo 5 su 5 quindi ottimo raga andiamo a vedere il nostro villaggio avversario che tra l'altro ci ha tristellato malamente ci ha tristellato malamente devo dire io ci ho dato una piccola occhiata è abbastanza fortino il discorso semplicemente raga è questo sto attaccando da pc, come vedete ho il mouse è complicato, le probabilità che io failo questo attacco sono molto alte ma ci proviamo lo stesso ovviamente mi sto organizzando un pochettino bene con un tablet che ho ho un ipad, ho il tablet android quindi mi sto organizzando bene mi deve arrivare semplicemente lo stand e devo sistemare un pochettino le cose con il programma che devo andare a comprare quindi a pagare e a vedere un pochettino come costa quanto funziona tutto il resto per riuscire ad attaccare meglio in diretta raga direttamente dal tablet è più semplice piazzare le truppe, è più semplice fare tutto quindi ci organizzeremo bene ma non parliamo troppo di questo raga andiamo a vedere un pochettino come attaccare questo villaggio allora la mia idea era questa ovviamente questo è un villaggio da due stelle le riusciamo probabilmente a fare e io punterei più a quelle che alle tre le tre stelle ragazzi sono toste perché questo è un villaggio bello maxato ci ha difese molto alte e la cosa buona sarebbe da piazzare due traghetti quindi qui sotto in basso con la sputatronchi che ci va a distruggere la eagle e il monolito però raga c'è il problema che qua c'è talmente tante difese che ci targettizzano tutte quante sopra alla sputatronchi non lo so se noi riusciamo a buttarla giù la cosa più intelligente secondo me arrivati a questo punto da fare è puntare dal lato municipio dal lato municipio però il rischio è che ci fermiamo soltanto ad una stella possiamo puntare le due stelle? sì ci potremmo riuscire penso anche quasi sicuramente visto che attacchiamo con i draghi elettrici che comunque raga fanno il loro danno gli eroi sono maxati sia i suoi che saranno maxati anche i nostri perché abbiamo una bella polzioncina da adoprare quindi secondo me raga proviamo a fare l'attacco puntando almeno alle due stelle penso di sì anche perché questi avversari come prima sfida sono abbastanza forti magari poi vediamo se riusciamo ad attaccare nel tempo del video anche con gli altri due account che io ho magari vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio anche se è difficile perché lì diciamo che sto un po' più in basso con i dh e abbiamo contro tutti i dh molto 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 forti come potete vedere vi faccio vedere dalla mappa velocemente prima di procedere a questo attacco il mio secondo account è il 9 ci dice che è un th13 se non sbaglio 13 mi pare 14 scusate 14 e devo attaccare un th16 e la cosa raga è un po' complicata ovviamente quindi non so bene come fare e soprattutto c'ho l'ultimo che è questo qui il terzo profilo che devo attaccare un th14 raga e non so se ci riusciamo ma va bene va bene va bene ci proveremo tranquillamente quindi signori direi che possiamo procedere a questo attacchino che presumo sarà difficile però a noi raga poco c'è interesse ci andiamo lo stesso dei cattiveri il dirigibile onestamente lo usiamo? non lo so perché potrebbe essere interessante in realtà se dobbiamo puntare a spaccagli subito il municipio il dirigibile non è male quindi secondo me dirigibile maxato ce lo piazzamo che dire e procediamo subitissimo con la solita tecnica tetra che elettrica se pulisce un attimino ai lati giusto per far entrare tutto il resto dritto per dritto verso l'interno del villaggio qui dove sta il municipio le scaglia pietre eccetera eccetera e vediamo cosa riusciamo a fare soprattutto spero di riuscire a portarci a casa almeno il 50% ovviamente c'è raga vedete quanto cavolo di danno fanno le difese aeree io adesso questa la voglio distruggere perché è quasi morta praticamente un colpo muore quanto cavolo danno fanno le difese aeree ai draghi elettrici non riesce a sputtare vabbè raga non c'è riuscito quindi procediamo con l'attacco raga non ci pensiamo troppo siamo attenti ovviamente io vorrei mettere subito una gelo qui ok non ci sono riuscito a mettercela in tempo però va bene vai dietro con tutti gli eroi dei cattiveri raga stiamo andando troppo lenti vai con furia furiabilità del sorvegliante procediamo con un'altra gelo qui sopra che blocchiamo tutto blocchiamo anche qui ok raga siamo entrati siamo entrati il municipio ci siamo portati a casa al 38% per il momento ho gelato troppo tardi quella torre inferno per il momento ci stiamo abbastanza dentro ci stiamo abbastanza dentro raga 47% buono 48% le due stelle ragazzi e le siamo portate a casa io posso ritenermi soddisfatto di questo attacco perché tanto sono sicuro che purtroppo le tre stelle non credo di che potevo riuscire a farle magari avrei dovuto utilizzare delle truppe differenti probabilmente delle truppe di terra magari potevano essere un po' più utili sarebbero state più efficaci probabilmente per attaccare di qua magari con golem e dietro altra roba quindi facciamo in questo modo raga ovviamente voi che comunque gli stiamo facendo un botto di danno con tutto abbiamo attaccato per due stelle scrivetemi qui sotto nei commenti come lo avreste attaccato secondo voi e come avreste magari puntato secondo me su un attacco di terra era più logico faceva molti molti più danni per un villaggio come era strutturato quello lì quindi adesso andrò a logare con il prossimo profilo e ci facciamo un attacchino anche lì ci vediamo tra pochissimo bene ragazzi ottimo siamo qui con il nostro secondo account e andiamo a vedere un pochettino la situazione innanzitutto ci prendiamo la roba dentro la tesoreria così la liberiamo facciamo un bel rinforzino anche qui e ci andiamo a vedere subito se abbiamo le varie pozioni dei eroi le abbiamo comprate continuiamo a comprarle perché le abbiamo disponibili le prendiamo tutte e tre bello abbiamo un bordello di medagliette quindi possiamo tranquillamente farlo e andiamo a vedere il villaggio che noi dobbiamo attaccare qui regà la questione diventa un po' più complicata perché noi TH di livello 13 14 scusate mi sbaglio sempre con sto cavolo del 13 mi sei messo in testa ormai TH a livello 13 passato da poco quindi vedete le build le strutture non sono tutte maxate ovviamente ci sono dei muri da dover ancora finire ci sono varie cose ovviamente l'abbiamo passato da poco dobbiamo fare un pochettino il tutto dobbiamo andare ad affrontare un TH 16 un TH 16 regà è probabilmente complicato da affrontare anche se in realtà questo villaggio è un villaggio molto strano molto stupido non so che tipo di villaggio possa essere se effettivamente ha un una sua logica però io punterei ad attaccarlo regà prima spaccare l'artiglieria aquila qui e poi andiamo da questo lato di cattiveria allora le due stelle probabilmente le portiamo a casa quasi sicure le tre non lo so dipende da come si svolgerà un pochettino l'attacco quindi io faccio gli ultimi preparativi e tra pochissimo lo attacchiamo bene ragazzi eccoci qui siamo pronti per l'attacco cattivo 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 ovviamente abbiamo i draghi elettrici al 4 quindi non è che sono così tanto performanti però 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 regà io direi che possiamo comunque sfruttarli lo stesso ne piazziamo uno qui madonna le truppe quelle non me le aspettavo ovviamente dovevo ragionarci che c'erano le truppe del castello però noi ce le portiamo via regà e ci piazziamo qua la campionessa così intanto c'è spacca quella e possiamo procedere bene piazzando un altro draghetto qua su in alto in modo che puliamo un po' il tutto vai ti prego distruggi l'artiglieria aquila come se non ci fosse un domani dai che ce la puoi fare le nostre truppe ci vanno dritte sopra dai no regà no per uno sputo non la distruggono per uno sputo non la distruggono quindi dobbiamo cambiare l'attacco dobbiamo cambiare l'attacco io direi di attaccare da questo lato a salire su attacchiamo da questo lato a salire su questa è una pecca perché non ci è riuscito a distruggere quella cosettina dobbiamo stare molto molto attenti piccola gelo veloce non me l'ha piazzata va bene non ci ho neanche preso furia furia gelo sulla torre inferno vai che entriamo dentro lo stesso regà non ci facciamo intimorire da questo problema blocchiamo subitissimo il il monolito a bilà del sorvegliante entrate vi prego dentro questo cavolo di villaggio dai che possiamo portarci a casa la seconda stella easy in realtà regà cioè stanno qua le truppe il municipio è vicino non vi mettete a fare il giro vi prego perché se no rischiamo di non fare le tre stelle e neanche le due molto probabilmente non facciamo neanche quelle guardate regà la sfiga la sfiga più totale ok ok devo trovare una soluzione per attaccare meglio ovviamente non si può attaccare dal pc abbiamo fatto un epic fail di quelli proprio esagerati regà esagerati 65% una stella male 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 qui la situazione inizia a diventare regà abbastanza grave abbastanza grave ci fermiamo con un 66% purtroppo purtroppo abbiamo attaccato veramente di merda peccato per l'artiglieria aquila che per un piccolo tocchettino non è riuscita ad esplodere mannaggia la puttagnola regà non ci demoralizziamo abbiamo un altro attacco da fare che ce lo facciamo abbastanza in fretta e dopo andiamo a ragionare come attaccare meglio magari le prossime truppe non credo che già ci siano i villaggi della prossima guerra no infatti ancora non ci li fa vedere perché siamo ancora nei preparativi raga è tragica la situazione è tragica magari io cerco di organizzarmi per il prossimo video spero di avere ovviamente un modo alternativo per registrare meglio non da pc perché ho troppa poca rapidità da pc nel piazzare le truppe e mi vanno sempre un po' malino gli attacchi ma va bene va bene andiamo con il terzo account ragazzi vediamo tra pochi se appena l'ho alloggato allora ok ragazzi ci siamo ovviamente ovviamente io faccio un bel rinforzino io mi auguro che questa volta noi riusciamo a fare qualcosa di interessante ovviamente ci andiamo a prendere anche le polzioncine del caso le prendiamo non abbiamo più spazio ma va bene speriamo di riuscire a fare un attacco un po' più decente con questo th qui noi abbiamo un th 13 dobbiamo attaccare un th 14 raga tosta vediamo un pochettino il villaggio com'è vediamo un pochettino il villaggio com'è se riusciamo a fargli qualcosa interessante allora ovviamente ha le torri inferno singole e il che è preoccupante perché contro i draghi elettrici raga fanno male la cosa intelligente qui è attacchiamo da questo lato e andiamo verso il municipio così la stella ce la portiamo sicura anche le due ma le tre non lo so o puntiamo ad attaccare da qui un attacco più tranquillo che va verso il centro per poi girare sul municipio ma rischiamo che ci vanno a fanculo da questo lato più che altro verso la torre infernale che potrebbe devastarci tutte quante le truppe quindi raga è un bel problema secondo me puntiamo più sulle due stelle sicure da questo lato e magari se sculiamo visto che ha un th più forte del nostro possiamo procedere anche per le tre ma non ne sono sicuro purtroppo sono un po' demoralizzato dall'attacco precedente perché è andato un po' di merda però va bene va bene va bene poteva succedere l'avevamo messo in conto non è un problema io direi che questo qui ce l'attacchiamo un pochino più intelligentemente ovviamente adesso io faccio una cosa prima di piazzare tutte le truppette qui tutti i traghetti qui appena hanno pulito un pochettino vado subito a congelare la teglieria aquila perché sennò non faremo mai in tempo quindi io congelo e vado subito con tutte le truppe qui e vado addirittura raga anche subito con le due furie e poi piazziamo dietro tutto il resto mettiamo un'altra gelo qui sopra mettila madonna questo mouse che clicca a caso raga non clicca mai al momento giusto però noi in teoria siamo entrati all'interno del villaggio le due stelle dovremmo portarci a casa abita del sorvegliante attivata subito al pelo raga al pelo ce la siamo rischiata molto due stelle le portiamo a casa penso tranquillamente una stella ci siamo raga la seconda stella è easy in realtà ce l'abbiamo anche al 3% quindi io mi accontento assolutamente assolutamente di queste due stelline abbastanza pulite devo dire comunque l'attacco è andato abbastanza tranquillo in realtà le due stelle si facevano facile le tre ovviamente non ci speravo più di tanto visto che stavo attaccando comunque un th più alto del mio e ovviamente messo anche mezzo senza ombra di dubbio quindi ovviamente anche perché avevo tutte le truppe aeree avevo sempre sacchilettrici perché li utilizzo moltissimo per attaccare online eccoci qui ragazzi vi invito ovviamente a scrivere nei commenti magari delle truppe che voi mi consigliate per attaccare e soprattutto come avreste attaccato voi magari i villaggi con il primo account più probabile da ragionarci su truppe perché comunque le ho alzate anche quelle di terra mentre sugli altri stiamo diciamo un pochino più in basso con le truppe ovviamente perché sono th più bassi consigliatemi qui sotto nei commenti come avreste attaccato cioè scrivetemi come avreste attaccato voi l'avversario abbiamo attaccato il numero 1 ve lo faccio rivedere al volo velocemente e soprattutto consigliatemi se magari possiamo fare un attacco differente invece che utilizzare draghi utilizzato anche sul canale qualche combo nuovo da utilizzare magari contro il prossimo villaggio la prossima giornata di cvl scrivetelo tutti quanti qui sotto nei commenti volevo inoltre ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando grazie tantissime quindi vi invito a lasciare un bel like di supporto anche in questo video soprattutto ad iscrivervi al canale perché in moltissimi vi state iscrivendo io ne sono felicissimo ma anche molti guardano i video non sono iscritti quindi regà fatelo perché a voi non costa nulla a me fate un piacere enorme enorme e soprattutto condividete il video con i vostri amici importantissimi regà amici parenti zii cugini con chi vi pare con tutti perché più siamo e meglio è qui da Ciris è tutto un salutone bella regà ciao 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 ciao